Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua con un video di upgrade della mia attrezzatura fotografica che ho fatto un po' di mesi fa. Rispetto a un po' di mesi fa ho aggiunto la batteria del drone, la GoPro 10 rispetto alla GoPro 4 che avevo prima e sono andato ad aggiungere anche un obiettivo in più che è l'80200 f2.8 la Nikon. Iniziamo subito naturalmente con la parte fotografica che naturalmente è la mia Nikon D610 con montato il 24 120 f4 benissimo in qualsiasi situazione sia ritrattistica che paesaggistica anche in street lavora da dio nel mio profilo instagram pubblicato degli scatti che sono andato a fare a Milano quindi se volete andare a vedere lo trovate sotto in descrizione. L'obiettivo nuovo che vi ho portato nel video precedente è questo qua ve lo faccio subito vedere al volo 80 200 mm f2.8 della Nikon doppia ghiera perfetto per ritrattistica e anche per paesaggistica fa ottimi lavori per avere uno zoom un po' in più rispetto al 120 ha un gran peso però si si adatta un po' per portare comunque ottimi lavori è perfetto. Passiamo al reparto video come attrezzatura e upgrade ho preso la GoPro 10 vi ho fatto un video intero con questa sul canale dove sono andato a portarvi nei paesaggi su montagna queste cose qua lavora da dio 4k a 60 fps perfetto anche i 120 fps lavorano da dio per i rallenti se uno vuole fare un rallenti fino a portarlo a 60 fps così non si perde qualità. Naturalmente sul canale trovate il video della recensione della comparazione con quella vecchia e il video intero che ho fatto registrando solo con questa anche con basse luci lavora da dio assieme alla GoPro 10 porto sempre dietro una batteria di scorta che ho ricevuto quando l'ho acquistata sul sito GoPro. Pratico stuccio GoPro dove dentro sta benissimo ferma perché ha la sua forma naturalmente dentro qua ci metto la batteria i suoi accessori e il caricabatteria dopo altra attrezzatura che uso per registrare è il drone il Mavic Air 2 come vedete grandissimo drone per i lavori che faccio io qualità secondo me altissima autonomia molto lunga non ci ho mai fatto un video ma se volete un video di recensione ve lo porto più che volentieri autonomia di 25 30 minuti dichiarati 32 mi sembra DJI io ci ho volato fino a 28 minuti con una batteria ho una batteria secondaria così quando sono in giro mi fermo in diverse tappe si scarica questa un cambio è un'altra batteria almeno di 28 minuti di registrazione questo è il suo telecomando è grosso quasi quanto il drone guardate un po che grandezza però ti dà quel senso di solidità in mano la cavetteria non la si può dimenticare per collegare il telefono perché la si va già a collegare qua dentro e si tiene sempre qua dentro comunque vedete non ti puoi neanche dimenticare nel momento in cui colleghi il telefono di prendere gli analogici perché sono posti qua sotto quindi comodissimi su quel fatto l'air 1 nel momento in cui se uno ci andava a mettere il telefono dove andare a rismontare perché gli analogici erano messi sotto a dove si andava a incastrare il telefono dimenticavo che questo qua può diventare un power bank perché ha un'ottima batteria il mio Mavic Air 2 lo tengo in questa borsa comodissima che posso mettere dentro lo zaino quindi minimo spazio perfetto è imbottita così se prende degli urti il drone non sente nulla pagata pochissimo e tiene molto molto bloccato il drone non balla minimamente perché è proprio la forma perfetta dentro l'altro mezzo che uso per registrare non lo vedete in questo momento che non ce l'ho in mano ma è quello che sto usando è il mio S20 Ultra perfetto per scattare e registrare registra in 4k a 60 fps fotografie sia jpeg che raw registra da dio fotografa da dio pensando che un telefono naturalmente non è una macchina fotografica infatti se non vi volete portare dietro tutta quell'attrezzatura che ho io vi basta un telefono del genere lo accendete puntate cliccate o accendete la registrazione e iniziate come vedete la registrazione comunque di 4k è molto alta che sto usando una lampada per illuminarmi con la luce naturale lavora ancora meglio quando vado via tanto tempo mi porto il carica batteria ad auto per il drone può caricare due batterie assieme così nel viaggio uno carica la batteria se l'ha già utilizzata un po' mi porto sempre dietro il mio GorillaPod perfetto questo qua secondo me ci ho fatto un video dedicato con il cavalletto che sto utilizzando anche adesso per registrare che è un po' più ingombrante questo qua è piccolissimo lo si può utilizzare in qualsiasi situazione perché si adatta a qualsiasi terreno dietro mi porto sempre le SD per la macchina fotografica adesso andrò a comprare nuove che saranno più veloci 95 megabyte al secondo almeno da 64 barra 128 giga così potrò mettere più fotografie naturalmente non preoccuparvi troppo dello spazio perché questa qua da vuota può tenere 280 fotografie le altre direi almeno il triplo poi la mia macchina fotografica dispone di due slot quindi ancora meglio sempre dietro con me la SD che fa ad adattatore per le micro SD che si utilizzano nel drone o nella GoPro e mi porto dietro sempre anche questa chiavettina comodissima perché se uno ha un pc come il mio fisso per esempio che non ha entrata per la SD questa chiavetta ti fa ad adattatore per diventare entrata SD e USB 3.0 quindi lettura più veloce mi porto dietro sempre anche il mio power bank da un tera così che quando sono fermo magari in qualche stanza di hotel scarico tutte le fotografie direttamente sul pc e poi le passo sul power bank così mi libero la SD e non ho pensieri che magari la SD si va a riempire e magari non posso più fare foto in giro visto che le foto comunque della macchina fotografica pesano parecchio o comunque anche i video del drone pesano parecchio e quindi si va a occupare velocemente lo spazio sulle SD o le micro SD penso di aver parlato di tutta la mia attrezzatura che di solito mi porto dietro per andare a fare fotografia o comunque qualche viaggio mi porto dietro tu questa attrezzatura per avere al massimo della resa e al massimo della qualità spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like commentate sotto iscrivete al canale se non è ancora iscritti e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi